probabilmente li avete visti anche voi si agirano per la nostra città con un fare disinvolto scomposto quasi spensierato potreste scorgerli mentre passeggiano con uno sguardo rivolto verso il vuoto oppure molto intenti in quello che loro chiamano semplicemente fare una passeggiata a volte potrebbero anche avere un passo lento distratto quasi contemplativo se qualcuno gli chiedesse ma che cosa stai facendo loro potrebbero rispondere sto solo passeggiando è così che questi esseri vagano senza alcun motivo dicendo di godersi semplicemente la natura camminano spesso sprovvisti dei più minimi dispositivi di sicurezza con la scusa di respirare meglio oppure addirittura dicendo che i dispositivi sarebbero in quel luogo naturale inutili se li vedete vi sconsigliamo di dargli retta di parlargli di ricambiare un loro saluto che loro sono soliti fare molto probabilmente una trappola però se avete la possibilità di passargli accanto potreste notare sul loro volto qualcosa di strano una smorfia verso l'alto quasi ad essere felici è normale nel vederli così dunque essere sospettosi e chiedersi cosa mai avranno da essere felici fate dunque attenzione quando li incontrate non abbassate mai la mascherina vi potrebbero riconoscere poi meglio non farlo